Ciao da Carlo, bentornato Goodler. Continuiamo il discorso didattico proseguendo con la descrizione dei lettori che avevamo iniziato la volta scorsa. Infatti, nella lezione precedente abbiamo iniziato a descrivere i lettori e i masterizzatori interni al case del PC. In particolar modo abbiamo descritto lettori e masterizzatori di compat disk, di DVD e Blu-ray, descrivendo poi le loro caratteristiche. Prendendo in considerazione il case del computer e guardando la parte frontale dello stesso, potrai trovare alloggiati, oltre ai lettori e masterizzatori che abbiamo descritto nella lezione precedente, potrai trovare, dicevamo, altri tipi di lettori oppure pelle alette che possono coprire dei fori dello stesso. Perché nei computer presenti non troverai l'ormai vetusto floppy disk che era un lettore di dischetti magnetici che ormai è in disuso per le caratteristiche molto retro, se vogliamo. Quindi, laddove non ci sono più questi floppy disk, troverai un'aletta di plastica, come dicevo, che copre il foro. Oppure potrai trovare altri tipi di lettori rettangolari, più o meno delle stesse dimensioni del lettore floppy disk. Questo lettore specifico è definito come lettore di schede. Cos'è un lettore di schede? Beh, è semplicemente un'interfaccia che permette di collegare e inserire all'interno dello stesso una tipologia di schede che ora più che mai rappresentano delle forme di memoria di massa altamente performanti che permettono di implementare le capacità di memorizzazione di vari dispositivi. Qui in figura trovi rappresentata una molto limitata visione delle schede che possono avere nomignoli tipo SD, Secure Disk, Mini SD, Micro SD, eccetera. Sono schede di memoria ampiamente utilizzate oggigiorno all'interno di fotocamere, telefoni cellulari, smartphone, videocamere, console di gioco, notebook, tablet PC, chiavette internet e chi più ne ha più ne metta. Tutto per aumentare le loro caratteristiche di memorizzazione. Come puoi vedere, quindi, oggigiorno ogni dispositivo tecnologico e portatile ne fa uso. All'interno dello stesso, infatti, potrai memorizzare i tuoi file, audio, video, foto, documenti, quindi, tutto sommato, permettono di rendere il dispositivo mobile un mini computer tuttofare. Le loro caratteristiche stanno diventando dei concorrenti sempre più agguerriti degli harddisk meccanici, harddisk che tratteremo dalla prossima lezione. Gli harddisk meccanici non sono altro che delle memorie che permettono di, scusa la ripetizione, di memorizzare i file all'interno del computer. Già alcuni computer all'interno installano degli harddisk, per così dire, ibridi, nei quali sono presenti contemporaneamente i vecchi, ma sempre altamente performanti, harddisk meccanici e harddisk statici, memorie statiche, tipo queste schede che hai appena visto, che sono indicate con il termine di flash memory. Solo attualmente gli elevati costi di questi harddisk flash memory, harddisk statici, stanno limitando la rapida diffusione degli stessi, ma sicuramente è solo questione di tempo affinché scalzino definitivamente gli harddisk meccanici. I tablet PC, ad esempio, per intenderci, sono delle tabolette tipo iPad della Apple, la stessa iPad, montano esclusivamente delle memorie statiche, quindi queste flash memory. Le loro caratteristiche portano tra l'altro dei maggiori benefici alle prestazioni generali dei computer. si ha anche, tra l'altro, una maggior durata, questo perché, non essendoci parti in movimento, gli harddisk classici, quelli meccanici, hanno una sezione meccanica che ruota a velocità molto elevate, all'incirca 7200 giri al minuto, dicevo, queste memorie sono esenti, queste memorie statiche, sono esenti dai classici danni, dai shock tipici degli harddisk meccanici, che possono essere le cadute, oppure i colpi dati alle stesse, o, semplicemente, parlando in termini di dispositivi mobili, il movimento stesso crea un effetto definito come effetto giroscopico, che con il tempo può danneggiare l'harddisk meccanico in maniera irrimediabile. Tornando ai lettori di schede, potrei vedere che sui vari computer, sia desktop che notebook, ci possono essere lettori indipendenti, definiti col termine stand-alone, che sono collegabili allo stesso tramite porta USB. Potrei trovare una serie impressionante di fessure, che permettono di alloggiare, quindi inserire e esplorare, una miriade esagerata di schede. Questo perché oggigiorno ci sono moltissime tipologie di schede, oltre quelle che ti ho fatto vedere qualche lucido fa. Tra l'altro, c'è da aggiungere che l'enorme diffusione di queste schede di memoria ha contribuito a far scendere i prezzi di questi lettori di schede a livelli ormai imbarazzanti. Con pochi euro potrai trovare un lettore di schede portatile o da inserire all'interno del case del tuo computer. Bene, nella prossima lezione inizieremo a descrivere i dischi rigidi, definiti con il termine hard drive o hard disk, che sono la capacità di memoria più grossa oggigiorno esistente all'interno dei PC e notebook. Non mi resta quindi che ringraziarti come al solito dell'attenzione. Un saluto, a presto, ciao da Carlo. Grazie a tutti.